Posa le borse? Ti ho portato un regalo. E' bruttino, ma simpatico, come me. Chi ti ha detto che sei simpatica? Sento che potremmo vivere in scatolate l'una nell'altra. In scatolate? Non ridere, dico sul serio. E' il tipo di cosa che ti capita una sola volta nella vita. Appena ti ho vista l'ho sentito. Ti adoro. Non parlarmi come se avessi 12 anni, non sono una bambina. Sì, ma lo sai un pochino? No. Marion, ho vent'anni più di te. Chi se ne frega, l'età non esiste. Ah sì, sì, esiste. No, è nella testa. Ah no, credere che non esista è nella testa. Marion, che c'è? Preferirei che non dormissi qui. È la casa di Guillaume, mi imbarazza.